Con chi di loro sto parlando adesso? Dottoressa Fletcher? Con Barry? Non sembra affatto Barry. Barry è un leader estroverso. Infatti lo sono. Adesso ti dico la mia ipotesi, basandomi sulla descrizione di tutte le 23 identità che vivono nel corpo di Kevin, come ho saputo da Barry. Io credo di parlare con Dennis. Credo di averlo incontrato. E lo credo perché hai sistemato due volte il piatto dei cioccolatini da quando sei qui. E so che hai un disturbo ossessivo compulsivo. Ecco, ora capisco. Lei è abile. È abile, ma io non sono Dennis. E penso anche che tu e Patricia siate stati banditi dalla luce già da un po'. Prima di tutto per le vostre credenze, diciamolo pure. Patricia e Dennis sono molto instabili. Io non sono Dennis. Avete voi due il controllo ora? La prego di credermi. Io sono Barry.